In dialetto romanesco Trilussa, Carlo Alberto Salustri, 1871-1950 Poeta, scrittore e giornalista italiano, noto per le sue composizioni in dialetto romanesco Che dello spiritismo? E' un tavolino dove c'è drento un'anima innocente Che tesorte e defora solamente se vede il grugno della paladino E' un sapia paladino, famosa medium ad effetti fisici del tempo Ho depoliti l'orlogiaro, quello che fa lo spiritismo corpennello Orlogiaro, medium che in quei tempi fu sorpreso Mentre con un grosso pennello simulava con esso la barba di uno spirito incarnato Così va Ermonno, setta ricomanni che voi rivede l'anima di zio Per quanto fiotti viagni e preghi Dio Tu zio non torna manco se lo scanni Perché lui penserà Già che son morto fussi mato a tornacce E nun a torto Continua Commento Gli intellettuali hanno spesso ridicolizzato l'antico spiritismo Fitto in realtà di illusioni e di frodi Come gli inizi di tutto E in parte gli intellettuali lo fanno anche adesso Con la grande medianità E' ineluttabile Per chi vive solo di mente E' in parte gli intellettuali lo fanno anche adesso